31 precedenti, 62 partite tra Casertana e Salernitana. Complessivamente sono 16 successi rosso-blu, 22 sconfitte e 24 pareggi. Negli ultimi 30 anni ben 12 volte il derby è finito in parità e due vittorie per la Casertana. Almeno tre i più famosi, a cominciare dal 2-2 del 31 gennaio 1993, quando a De Silvestro e Pisano risposero Di Criscio e Fermanelli. Una punizione che gelò la Rechia al 93, spegnendo i sogni di Bigranata. Qualche anno prima, il 3 dicembre 1989, la Beffa la subirono i Falchetti, avanti 2-0 con Petriello e Brandani. I padroni di casa fallirono nella ripresa un rigore con Ravanelli e si videro rimontare da due rigori di Di Bartolomei. Al ritorno stesso risultato grazie alle reti di Di Bartolomei e Campilongo, Di Battista e Solfrini. Nell'84 Doto stese i salernitani, mentre al ritorno, dopo il vantaggio di Mariotti, penalti di Zaccaro per l'1-1 finale. Stesso risultato l'anno dopo con Bonaldi che al novantesimo pareggiò il gol di De Vitis. A Caserti invece è successo rosso-blu con Meiriotti, De Vitis, Petriello e Genzano. Fu quella l'ultima vittoria prima di una lunga serie di pareggi. 1-1 il 14 dicembre 1986 con Offeala e Tappi a referto. 0-0 al ritorno, così come il 13 dicembre 1987 al Pinto e 1-1 al Vestuti, Griffato, Cozzella ed Ottavio. Dopo il nulla di fatto del 4 dicembre 1988, Pirotecnico 2-2 nel match di ritorno. Sbloccò Solfrini, pari di Di Battista, poi Di Bartolomei e Cerbone. Al Pinto l'ultimo confronto finì 0-0, poche emozioni, in un derby in tono minore. Il resto è storia con un altro capitolo da aggiungere dopo ben 22 anni.